Perla! Garnet! Ametista! C'è nessuno in casa? Uno, due, tre, apriti! Saranno ancora fuori a salvare il mondo! Ma guardati! Sei davvero stupenda! Perla! Garnet! È finita! È troppo buona per mangiarmela da solo! È una... colazione da fare insieme! Ah, Garnet! Perfetto! Dà un'occhiata qua! Non sarà molto dietetica magari, ma gli strati sono tutti uguali! Quindi immagino si possa dire che è... una colazione bilanciata! Ho preparato questa torta e pensavo di mangiarla tutti insieme come buoni amici! Non posso restare! Devo andare al tempio per una faccenda urgente! Oh, sempre da fare! Che cosa? Devo bruciare questa! Forte! Ehi! Devo bruciare anche questo ora! No! Le mie applicazioni! Porta! Apri! Porta! No! Mai che funzioni quando serve! Squadra antitonti! Abbiamo un tonso! No! Oh, troppo forte! Ci sei cascato in pieno! Dovevi vedere la faccia che hai fatto! Ah, lo sapevo che eri tu! E come? Quella è una pistola d'acqua! E non sono tonto! Hai una cosa sulla maglietta! Oh! No! Ahahahahahaha Ahahahahahahaha Ahahahah